Allora lui è Marco Meschini, MJ, e mi ha detto comunque prima abbiamo parlato un attimino e suonerà un po' delle sue produzioni. Quindi sei pronto vero Roma? Perfetto, perfetto. Produzioni che poi alla fine sono dei remix che ci fa ascoltare questa sera, farà muovere un attimino Roma a modo suo. Quindi aspetto il tuo cenno e poi delirio. 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! Grazie a tutti. 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 Ok, 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 ok. Ok, ok. Applausi, applausi, applausi. Marco Meschini da Roma, ok.